Buongiorno! Ciao, eccoci qua! Cosa dovete sapere riguardo la misurazione della febbre? Non perdetevi neanche un minuto di questo video, perché dall'inizio alla fine noi vi diremo come si fa la misurazione, quali termometri si usano e come interpretare il risultato, quindi tutte cose che un genitore deve assolutamente sapere. Partiamo dall'inizio, come si misura la febbre? La febbre chiaramente si misura con il termometro e ci sono diverse sedi del corpo in cui si può misurare la febbre, quindi termometri diversi che possono servire. Allora, la classica sede per misurare la febbre è sotto l'ascella e di qua possiamo utilizzare, va bene, parliamo dopo sia il digitale che i nuovi termometri ecologici. Dentro l'orecchio, sulla fronte, in bocca e volendo anche nel sederino. In generale, se ci pensate, possiamo dividere queste sedi in esterne e interne. Se misuriamo la temperatura del timpano dentro l'orecchio o della bocca o rettale, stiamo misurando la temperatura dell'interno del corpo. Se misuriamo la temperatura sulla pelle, quale che sia la sede, misuriamo la temperatura esterna. Fra le due c'è mezzo grado di differenza, quindi se misurate la temperatura nell'orecchio o rettale e trovate 38, il bambino non ha 38, ha 37 e mezzo, quello che noi diciamo 37 e mezzo a scellare. Quindi fate attenzione a non farvi prendere delle paure per nulla. Detto questo, la temperatura interna è un pochino più affidabile, perché è più stabile. Quella esterna può dipendere da quanto il bambino suda, può dipendere dal fatto che magari ha una dermatite sotto l'ascella e quindi arriva più sangue, può dipendere da tanti fattori. Viceversa, quella interna è una temperatura più precisa. Sì, infatti si consiglia comunque la temperatura a scellare di provarla quando il bambino è in una condizione, cioè voglio dire, non è appena uscito dal letto, dalle coperte fino al naso, si prova la temperatura di solito è un po' più alta di quello che in realtà è reale, perché il bambino era accaldato, tra virgolette. Quindi normalmente si dice tenere il bambino con un abbigliamento di stagione, quindi la maglietta d'estate e che ne so, la tutina leggera d'inverno, 10 minuti a una temperatura costante in un ambiente di 20-21 gradi. Dopodiché si prova la temperatura e quella è. Secondo punto importante, ci sono vari tipi di termometri, non ci sono più quelli a mercurio, perché il mercurio è pericoloso e quindi se si rompe può fare dei guai, quindi chi li ha sarebbe invitato a non usarli, insomma a sbaltirli con sicurezza. Però adesso molto simili a quelli che erano al mercurio ci sono i cosiddetti termometri ecologici, hanno dentro degli altri metalli che ad esempio i principali sono quelli a gallio e funzionano nella stessa maniera di quelli al mercurio. L'unica cosa è che sappiamo che dobbiamo scuotere il termometro per far scendere la colonnina come si faceva con il mercurio, con questi ecologici si fa un po' più fatica a farli scendere, ok? Perché scendono più facilmente con il caldo e quindi all'interno delle scatole quando li comprate c'è anche proprio una cosa di plastica dove voi mettete dentro il termometro per scuoterlo più facilmente senza farlo cadere per terra. Quell'applicatore di plastica che vedete serve a questo. Comunque l'ideale è comunque quello di far scendere la colonnina sotto i trentacinque e mezzo in modo che poi si metta sotto la scella e lei risale in funzione della temperatura. Certo, se invece vi vediamo scrollare quelli elettronici insomma ecco non è un bel segno vuol dire che qualcuno lì c'ha qualche problema. Quello elettronico funziona a termocoppia, sono dei misuratori affidabili, poi dipende dal modello, dalla marca, ma in generale il principio è molto affidabile, tanto che è uno dei principi che utilizza l'industria per misurare le temperature delle cose che costruiscono. Quindi sostanzialmente qual è? Quello che ha alla fine dell'asticella una parte in metallo che è il rilevatore di temperatura, poi il termometro si allarga e c'è un display dove leggete la temperatura. Questi sono quelli che incontrano personalmente il mio favore perché sono precisi e sono facili da usare. Lo metti lì, quando suona il bip lo leggi, insomma è veramente a prova di... E soprattutto la temperatura viene rilevata con meno tempo, nel senso che nel giro di un minuto, un minuto e mezzo massimo, quando è alta suona e hai la temperatura. Quello ecologico quei 4-5 minuti lo devi tenere perché altrimenti non rileva la temperatura corretta, diciamo così. I pediatri sono invece un pochino più dubbiosi o se volete insomma abbiamo visto dei risultati di tutti i tipi sulle misurazioni, quelle a distanza, sulla fronte o quelle dentro e nell'orecchio. Ecco non è che non siano precisi, ma se fai 10 rilevazioni trovi 10 numeri diversi e probabilmente ci vuole un po' di statistica per riuscire ad avere un valore vero della febbre. Insomma non ci contiamo molto. Sì, anche perché adesso appunto quelli a infrarossi frontali possono essere sia a distanza che da contatto. Quelli a distanza sono veramente molto molto poco attendibili perché il bambino si muove, ma provateli su voi stessi, io lo dico sempre. Quelli a contatto un po' meglio. Invece il termometro auricolare che poi anche quello che si utilizza nei reparti di pediatria o nel pronto soccorso quando arrivate diciamo che ha un'attendibilità di sicuro diversa. È vero, dipende dal fatto che l'operatore comunque sa che dopo il bambino verrà visitato e quindi per esempio la presenza di cerume nell'orecchio, la presenza di un'otite che può disturbare queste misurazioni, dopo arriva il dottore e dice c'ha l'otite e allora scopri perché la febbre era più alta o meno alta. Voi a casa che dovete fare una misura e basta, scegliete tecniche più semplici. Io normalmente consiglio l'ascellare. Anch'io assolutamente. Perché è la misurazione meno pericolosa, anche perché è vero, abbiamo detto prima, la temperatura interna è più attendibile, è vero, però mettere un termometro in un sederino di un bambino possiamo provocare danni se non sta fermo, se non lo mettiamo correttamente. Ma questo è il terzo punto. Adesso ci occupiamo di dare qualche dimostrazione. Come si misura la febbre? Insomma l'abbiamo visto tutti da bambini come facevano. Fra l'altro le mamme usano sempre questo metodo per misurare la febbre. Non è raccomandabile, ok? Non è raccomandabile. Ma dopo che avrete visto decine e decine di episodi di febbre, forse anche la vostra mano diventa attendibile. All'inizio non vi fidate. All'inizio abbiamo detto usiamo i termometri, questo qui classicamente è un termometro di quelli a termocoppia, quindi qui misura la temperatura e qui leggiamo il risultato. Questo è l'altro, quello che si diceva prima, che è l'ecologico. Ecco, somiglia a quelli a mercurio, ma dentro non c'è il mercurio. Si fa la manovra, vuoi far vedere, si fa la manovra. Non ce l'ho da fare di plastica, ma insomma si fa così e si abbassa raccomandabile. Si deve portare al di sotto del livello di una temperatura normale, poi se sale è veramente febbre. Ma questo qui come si misura? Se si fa la misurazione ascellare bisogna fare in modo che questa parte qui sia ben nel mezzo del cavo ascellare. Nei bambini più piccoli, quindi bambini che non stanno fermi, bambini che hanno poca ciccia, bambini che in generale non vuoi spogliare del tutto, la misurazione ascellare si presta a qualche difficoltà in più. Io personalmente raccomando la misurazione rettale con una metodica che evita qualsiasi tipo di rischio, che è questa. Il termometro deve penetrare appena un po' nel sederino, quanto un po', diciamo due centimetri. Allora il trucco è impugnarlo come se fosse un abiro. Se voi lo impugnate come fosse un abiro, il bambino viene, mettiamo sia un lattante, si capisce, non c'ha 14 anni. Allora il lattante viene tenuto con le gambe in su, ci si avvicina al sederino, si fa penetrare il termometro e le dita con cui lo sto tenendo fanno da fermo, per cui se io faccio così non c'è il rischio che se si muove il bambino il termometro vada dentro, spacchi chissà che cosa. Altra cosa, il termometro è piccolo, stiamo parlando di due millimetri, quando il bambino fa la cacca l'anno si dilata molto di più di così, quindi non abbiate paura di fare chissà che male, d'accordo? Allora dentro così si bipa il bip e si sta lì, dopo qualche secondo fa il bip e si legge la temperatura, abbiamo detto una temperatura interna. E quindi bisogna togliere il mezzo grado, ok? Le cinque lineette, questo io lo sconsiglio sinceramente per la misurazione rettale. Eh no, perché dovreste stare lì a leggere la temperatura, non è proprio semplice semplice. E poi è di vetro. E poi è di vetro, certo sì. Abbiamo detto le cose che dovete sapere sulla misurazione della temperatura, eh? C'è un sacco di letteratura leggendaria sull'argomento, ma alla fine è quello che vi abbiamo detto noi, è quello che vi metterà in condizione di sapere cosa fare, di non fare errori e di fare l'indispensabile per aiutare il vostro bambino. Di ogni sì. Se questo che vi abbiamo detto vi è piaciuto mettete un like al filmato, lo consigliate ai vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E mettete la campanellina. La campanellina fondamentale vi dirà quando pubblicheremo i prossimi video. Ciao. 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 Ciao.